Ragazzi già da subito vi chiedo di arrivare ad 800 likes se volete che la serie continui Spero che questo episodio vi piaccia, fatemi sapere se il format è di vostro gradimento Guardatevi il video ragazzi e poi fatemi sapere Bella raga, sarò il cameraman per questa super penitenza Bella a tutti ragazzi, sono Vieno e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video Come ricordate dallo scorso episodio della sfida di Midino Se non avessi fatto ciò che dovevo fare, ossia le 30 kills facendo armi, 35 Avrei dovuto fare una penitenza Dato che la maggior parte delle penitenze mi avete detto robe improponibili Perché io non è che posso entrare con la telecamera a casa del vicino e dire scusa posso andare a cagare Perché non voglio mettermi così ridicolo né tantomeno voglio prendere le volte Svegliando mio padre con sportswear Allora ho scelto quello che mi ha detto yogurt e maionese insieme Ma non avendo lo yogurt ci si farà ancora più schifoso Budino al cioccolato con dentro la maionese si pacceca tutto E poi dopo inizieremo raga con l'episodio di oggi Che consisterà nel fare 30 kills con l'attack, 45 Poi le penitenze se non ce la faccio me le dovrete dire voi Non perdiamo troppo tempo raga Andiamo subito a preparare il tutto Riprendi riprendi Che cazzo stai facendo? Che buono è? Che merda vecchio Che bello raga fare il cameraman in queste situazioni è fantastico Fa vedere fa vedere Come vedete tutta la maionese è maionese ragazzi Che sconsolizzazione a roba di maionese Miscia tutto fa vedere Che merda sali sushi Annusa sali sushi Un pochino si Fa vedere Fai vedere la telecamera che io vedo ma sono loro che devono vedere Dio Marco Tonni Cosa? Che schifo Come vedete Maionese e budino io direi tre cucchiaiate Tre cucchiaiate piene Aspetta Fa vedere Ok la prima è andata Che cazzo ti piace? No Faccio abbastanza schifata Non puoi avere Tre cucchiaiate È la penitenza Fa vomitare Sei te che hai inventato la serie Falla vedere Te ne fai quattro per penitenza L'ultimo Fallo bello grande E fallo vedere Cazzo Fallo bello grande No la cazzo bocca Fallo bello grande Fallo vedere Maionese e buino a cioccolato E butta giù Mi dispiace Cosa sta? Dove va? No che schifo Ok Beve Visto che è una scena un po' La capricciante Ragazzi Io vi auguro una buona visione del video Faccio la Intro Si può chiamare così O outro Al posto di mio fratello Ora buona partita Lo gioca in sei condizioni Ma va Fampuro Bella raga Eccoci qua ragazzi Dentro la partita Con la tech 45 Doveva fare 30 kills Anche usando le streaks E tutto Non è una sfida troppo difficile Solo che io di nuovo Quella merda Non la voglio mangiare Né nient'altro di simile Però proviamo a fare qualcosa Di carino Riccardo speriamo di non fare la penitenza Sennò davvero mi ammazzo Perché non c'ho voglia Riccardo ve la farei nel prossimo video Però comunque Cazzo non è che posso fallirle tutte ogni volta E anche di C4 si va oggi Vaffanculo Oggi imbroglio raga Imbroglio C'è che poi è un po' come prendersi in giro da sole La mia stessa serie Imbroglia Ma che cosa stai Dicendomi Riccardo dove sono tutti di solito i nemici? Qua li trovi a Mamma mia Ce n'è uno che camperà in fondo Raga Già l'ho visto Teo agliel Teo aglie 10 Ok questo come sta simpatico Bello fermo Quello lì aspettate un attimo Che forse Mamma mia Dovrebbe ben far male Cazzo Te il mitraglione O il cecchino Quel cavolo che hai E ti fai battere con uno Con la pistola da 8000 metri Vabbè questo come Shottato con la pistolina Neanche il tempo di prenderlo ho avuto Hai già 3 kills su 6 Questo ritmo è buono Devo Magari arrivare a una streak Ho messo le streak un po' più basse Magari per farmi una o due kills Gratis veloci Con L'attacco aereo Il che Risulterebbe davvero molto utile Se i miei compagni Io ho sempre problemi di compagni Raga Voi dite no Mi dia una tua impressione No col cazzo Perché qua non è possibile Che c'era il mio spawn da quella E mi arrivano i compagni da quella Cavolo Dai un po' di Un po' di obiettività Da quella parte c'erano i compagni miei Non mi può arrivare un nemico Invece mi arriva Oh Ok con calma Perfetto Vieni qua Qua ce n'è un altro E il mio compagno me l'ha ucciso Perfetto Siamo già 8 C4 Perfetto Vabbè io non ho capito L'odio che c'è Da parte di tutti voi Della community del mondo Nei confronti del C4 Cazzo Una granata Cioè se io faccio una kill con una granata Con il C4 Che cavolo vi cambia Va bene L'altro si è nascosto Io scappo nel dubbio Compagno Guarda Hai rischiato qua Madonna che mi ha bloccato Dai dai Con calma Perfetto Abbiamo l'attacco aereo Dove? Qua ce n'è uno Un attimo di tregua Dove cavolo lo tiro Mamma quanta gente che c'è qua Mamma mia Ho fatto tipo Sixon Ho preso 3 nemici Col colpo fulminante C'è 5 nemici Col colpo fulminante Ne ho presi un fottio Non so quanti Però ne ho presi tanti Dice anche Ma siamo già a 17 Ancora 13 kills E la squadra 41 Dai cazzo Ma Luis Valentin Non fare triple Non osare Le triple sono tutte mie Perfetto Sta andando Sta andando Piccolo raga Mi metto già in preventivo Dico già le cose Per quelli che mi diranno È midi ma hai usato Le streaks E tutto le streaks Ci devo comunque arrivare Con la pistola Quindi di per sé Non è una critica Che regge Però cazzo Siamo anche qua 23 Però comunque La squadra è 53 Pian perino Salgono anche loro Devo sbrigarmi un po' Se vabbè 6 kills Su 21 Spero di poterle fare Vaffanculo Va non ri Mamma mia Mamma mia Dai elicottero Per favore Almeno te Cazzo fare 30 kills Vedete Quello che fa 11-1 Quello che fa Bravo elicottero Così mi piace Dai Se non ce la faccio adesso Sta serie È maledetta Ok l'ho preso Ne ho presi due E sono ancora vivo Non so neanche io Come bene Cioè ho preso Quello da stordito Come cavolo ho fatto Lì c'è un nemico Che spara sdraiato Per terra Due cazzo di kills Un altro nemico Preso Da stordito A 3 voglio 5 euro 30 in teoria 30 Perfetto raga E sta sfida Ce l'abbiamo fatta A farla Pensavo fosse più facile Una volta cominciata la partita Solo che poi vedete Tra i compagni che fanno Tante kills Una cosa e l'altra Le kill vanno avanti Non è che Non è che sia proprio facile Poi io non sono uno Che fa tante morti Quindi gioco un po' per la strica E tutto mi viene quasi naturale Di giocare un po' con Con calma Vabbè ormai le ho già fatte Le 30 kills Vabbè a questo punto Continuo pure Perfetto raga 33-3 Ce l'abbiamo fatta Al primo tentativo Quindi stavolta La penitenza Ve l'attaccate proprio raga Poi Un bel pollicione Verso l'alto Per la kill cam Che Guardatela un attimo qua Che precisione Guardate che cecchino Quella pistola Vabbè Io raga Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così mi raccomando Lasciate un bel pollicione Verso l'alto Un commento Se ancora non siete Iscrivetevi al mio canale Che mi fa sempre Molto piacere Noi ragazzi ci troviamo Come sempre O domani o dopo domani Con un nuovo video Come già detto Fate tutte le cose Che avevo detto prima Fatele Vi prego Fatele Fatele Non basta dire puttanate Per oggi Dammirina è tutto E bella E bella Grazie.